Cari amici buonasera Allora oggi vorrei parlare un pochettino di caccia al cinghiale quindi di cartuccia a palla Ovviamente chi va a cinghiali deve sostenere anche questo tipo di spesa e le cartucce a palla commercialmente hanno un costo abbastanza elevato Io quindi vorrei proporvi come fare una cartuccia a palla estremamente efficace e dal prezzo non dico basso ma quantomeno più sostenibile Per prima cosa quindi ho scelto una polvere che è la A0 che io ho trovato a 45 euro al chilo e che quindi secondo me rispetto a tante altre polvere che ci sono però in commercio ha un costo molto più abbordabile Oltre a questo invece della classica palla gualandi che è ottima però ha un suo costo costa circa 50 centesimi a palla Ho deciso di optare per la palla Lehman Questa palla potete farla voi se siete bravi fondendo il piombo con la formina e quindi il costo sarà veramente irrisorio Potete comprarla presso una delle famose armerie online a un prezzo se non ricordo mai di 35 centesimi a palla quindi comunque molto meno della palla gualandi e potete anche volendo comprarlo da qualche privato che fonde le palle e le vende girando su internet qualcosa si trova è una palla molto buona a dispetto del costo ricorda un pochettino il funghetto dei fuciletti ad aeree compresse però come vedete ha questa ampia superficie di impatto che permette di scaricare l'energia sull'animale e quindi con uno stopping power non indifferente quindi un potere di arresto notevole Questa palla quindi non ha niente da invidiare per precisione e per potenza alla gualandi anzi probabilmente nei tiri un po' più ravvicinati potrebbe risultare ancora più efficace e non ha il costo della palla gualandi quindi all'insieme la cartuccia che andremo a fare avrà un costo più sostenibile rispetto alle cartucce che compriamo o che comunque assembriamo con i componenti e con le polveri un po' più usate tipo Tecna o MBx36 andiamo a vedere un pochettino la composizione in 12,70,616 2,25 di A0 e una di queste palle inserita in una RGT da 21 chiudiamo il tutto in orlotondo a 62,5 ok la facciamo giusto per mantenere l'abitudine ma è semplicissima per prima cosa prendiamo la nostra polvere vedete si distingue da 0 perché ha dei granelli verdi e altri sul giallino e andiamo a pesare 2,25 g e con qualche lotto di questa polvere si può arrivare anche a 2,30 g io comunque mi fermo a 2,25 perché così siamo più o meno alla portata di tutti va solo vuoto non importa che sia molto corazzato risparmiamo utilizzando un T2 che va comunque bene mettiamo la nostra polvere che vedete scorre molto bene a questo punto prendo una borra GT da 21 e inserisco la nostra palla all'interno la borra fa da sabò non devo fare altro che inserirla metterla ben in contatto con la polvere se vogliamo prestiamo un pochino per farla a se stare ben bene cartuccia pronta dobbiamo soltanto passarla all'orlatore ragazzi cartucce da cinghiali veramente buone niente da invidiare a quelle che comprate in armeria sia per precisione che per potenza che per potere di arresto e quindi che dire risparmiate qualcosina farete ugualmente la vostra caccia con grande soddisfazione e quindi fate ragazzi che ne vale veramente la pena una cartuccia che si avvicina alle necessità di economia che ci sono in questo momento penso che con un 60 centesimi a cartuccia riuscite a farla quindi è assolutamente conveniente il bossolo al suo prezzo però lo potete anche riciclare potete prendere un bossolo già usato non ha importanza lo dovete semplicemente scegliere e ricalibrare e basta non cambiate l'innesco e lo potete utilizzare e risparmiate ulteriormente soldini e la borra GT hanno un prezzo irrisorio la palla se imparate a farvela da voi costerà ancora meno questa è una cartuccina che a seconda se vi fate da voi la palla potrebbe andare dai 30 ai 60 centesimi a cartuccia direi che è un prezzo assolutamente sostenibile ha un potere di abbattimento pari a qualunque altra cartuccia buona a palla ok la chiudiamo e così vi saluto e chiudiamo così il video ha anche la precisione ho potuto provare vi posso dire che ha poco da invidiare alle palle gualandi soprattutto nei tiri un po' più vicini forse nelle lunghe distanze la gualandi mantiene un po' più stabilità comunque nei tiri che si fanno normalmente cioè sui 40-50 metri questa palla tira dritto che è una meraviglia soprattutto quando è ben dosata come in questa bella cartuccia ok passiamo alla nostra chiusura che ricordo va chiusa a 62,5 un afflatore pronto con bambina già oriata ho messo la tacchetta all'altezza giusta devo semplicemente accendere e accendere cartuccia chiusa perfettamente questa è la cartuccia come deve venire come vedete è anche bellina esteticamente molto potente ed efficace che dire ragazzi in bocca al lupo a tutti i cinghialai e tutti gli appassionati di questo tipo di caccia provate anche questo ragazzi non ve ne pentirete un saluto da da parte mia e in bocca al lupo a tutti i cacciatori in genere ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti i cacciatori in